A Chiaravalle l'amministrazione chiarisce sulle scuole. L'assessore alla pubblica istruzione del comune di Chiaravalle, Cesare Pileggi, chiarisce la situazione delle scuole della cittadina delle Preserre. Allora sì, oggi parliamo di scuola. Parliamo di scuola e in particolare parliamo dei problemi che sono emersi in relativa a un'interpellanza del gruppo Uniti per Unire a firma del consigliere Maida. Praticamente in data 3 febbraio ci troviamo una richiesta da parte degli altri tre consiglieri di minoranza, quindi Rauti, Neri e Cardamone, riguardo praticamente una richiesta di consiglio comunale per parlare del problema scuole, problema sollevato come i consiglieri stessi dicono il martedì 25 gennaio quando una delegazione di genitori, dei dirigenti scolastici e degli insegnanti insieme al sindaco e all'amministrazione comunale hanno esaminato quello che è il problema scuole. Ora, loro sono stati, i consiglieri di minoranza, sono stati attenti ad individuare questa riunione del martedì 25, però probabilmente non sono stati attenti quando il sindaco ha fatto un passaggio fondamentale davanti ai genitori e davanti ai dirigenti, con cui comunque c'è stato un ulteriore incontro preliminare dove il sindaco stesso aveva annunciato un consiglio comunale dove si parlerà del problema relativo alle scuole, anche perché il problema è così serio che ha bisogno comunque della discussione nella stessa massima che un comune, ma comunque una città come Chiaravalle deve avere. Praticamente c'è stato già un incontro preliminare con i dirigenti, come dicevo prima, e si è parlato del problema scuole. È stato richiesto dall'amministrazione comunale un incontro con il prefetto di Catanzaro e anche perché l'interpellanza del consigliere Maita è come se fosse una vera e propria denuncia perché stava denunciando delle cose serie e il prefetto non può fare a meno di recepire quel messaggio. Di conseguenza il sindaco ha annunciato varie volte questo incontro, quindi questo protocollo del 3 evidentemente vorrebbe essere una primogenitura dei consiglieri di minoranza riguardo questa convocazione di consiglio che invece era già stato annunciato il martedì 25 gennaio dal sindaco stesso. Quindi il problema scuola è un problema importante che va discusso sia con il consiglio comunale, come è giusto, soprattutto con la prefettura. Quindi abbiamo richiesto un incontro per inizio settimana prossima per cercare di capire come bisogna muoverci perché le possibilità che abbiamo sono poche. Il prefetto ovviamente si deve accollare in una situazione che è una situazione grave, è una situazione in cui tra l'altro versano tantissime scuole della Calabria, tantissime scuole a livello nazionale. Come sapete le scuole di Chiaravalle sono interessate quasi tutti da interventi, alcuni sono quasi conclusi, alcuni si concluderanno addirittura tra un anno, un anno e mezzo. Quindi noi dobbiamo per tutelare i nostri ragazzi assicurare delle scuole innanzitutto sicure, però dobbiamo anche capire che questo è un momento per la città particolare, un momento in cui stiamo lavorando per assicurare questa sicurezza a 360 gradi su tutte le scuole e ricordo che anche gli edifici pubblici versano nelle medesime condizioni. Il sindaco ha ricordato sempre in quella riunione di martedì 25, per esempio la Casa Comunale, per esempio l'Ufficio Postale, l'Assessore allevori pubblici addirittura ha parlato di nessun edificio pubblico o comunque pochissimi edifici pubblici che hanno sia i requisiti antisismici e quindi è una situazione che si protrae nel tempo ormai e ricordiamo pure che la normativa che prevedeva l'inizio di un processo di adeguamento sismico per le scuole è del 2003. Di conseguenza dal 2003 al 2014 qualcosa in più si poteva fare. Non si è fatta, noi prendiamo atto che non si è fatta e abbiamo iniziato un processo, un processo che ci ha visti come città un cantiere aperto perché abbiamo la scuola elementare che è a ottimo punto. Abbiamo la scuola materna di Foresta, abbiamo Perivoglia interessata, a livello provinciale sia l'istituto Liss Enzo Ferrari sia il liceo scientifico che parzialmente il liceo scientifico è stato fatto, adesso tocca all'industriale, l'agraria sono stati affidati recentemente i lavori. Quindi questa è la situazione, insieme al prefetto bisogna trovare una soluzione, una soluzione che possa sia mettere d'accordo le forze politiche perché poi noi stiamo parlando di politica ma qui ci sono problemi che vanno oltre la politica e sia tranquillizzare i genitori che si dovrebbero comunque vedere costretti di portare i propri figli in altre città, in altri paesi del comprensorio, comunque in scuole che comunque non sarebbero sicure. Quindi dobbiamo analizzare a 360 gradi tutto quello che è la situazione delle scuole a Chiaravalle, scuole ed edifici pubblici e cercare insieme al prefetto di arrivare ad una conclusione. E sentiamo anche dalla voce del sindaco com'è la situazione attuale delle scuole dopo l'allarme lanciata da Uniti per Unire. Bisogna innanzitutto capire cosa significa allarme lanciato. La scuola lì dov'è ormai è da un anno, una scuola che è stata messa lì dove già negli anni 86-87 fino al 90 è stata già scuola, è stata sede di azienda sanitaria, di uffici dell'azienda sanitaria, una scuola dove già ha visto il consigliere di minoranza frequentare quella scuola da studente che anche ci tengo a sottolineare in modo particolare perché questa nota di interesse anche da cittadino non l'ha fatta prima del 4 di ottobre. Poiché la scuola lì è da un anno e il problema fino a quella data non c'era. Mi sorge il dubbio che ha perso le elezioni e di brutto voglio sottolineare e oggi nascono i problemi. Noi i problemi o c'erano o non ci sono oggi. Bene, da parte nostra siamo con la coscienza a posto e voglio tranquillizzare tutte le famiglie perché noi abbiamo fatto un'azione attenta già dal momento dell'insediamento. Abbiamo fatto quello che la legge prevedeva negli anni precedenti, quello di fare uno studio di vulnerabilità sismica. Lo abbiamo fatto, abbiamo ottenuto il finanziamento e tutte le scuole di proprietà del comune, di competenza dell'amministrazione comunale, sono oggi oggetto di adeguamento sismico. Di più non potevamo fare. Dovevamo poi trovare gli spazi, i doni dove portare i nostri figli a scuola e lo abbiamo fatto all'istituto parietario delle suore, scuola da oltre 50 anni. Lo abbiamo fatto nell'ex struttura che ospitava una ludoteca, struttura autorizzata dall'ASPA. Lo abbiamo fatto nella canonica, struttura che viene quotidianamente utilizzata da tutti per andare a messa, per i nostri figli per andare al catechismo e non è mai sorto un dubbio. Lo abbiamo fatto nell'ex palazzo degli uffici proprio perché era una scuola, lo abbiamo fatto perché è stato sede degli uffici dell'ASPA e anche e soprattutto perché abbiamo investito quindi come uffici migliaia di euro per poterla adeguare alle misure Covid. Lo abbiamo fatto lo scorso anno, abbiamo continuato quest'anno e bisogna dirlo in modo forte che le scuole sono delle autonomie scolastiche che si gestiscono, dove hanno dei responsabili delle sicurezza, che non hanno mai evidenziato nessuna situazione di criticità, nessuna situazione a livello sismico che poteva far pensare a tutti quanti noi che la scuola doveva essere chiusa. Allora capiamoci, torniamo al 2018 quando il sindaco Mimmo Donato è stato denunciato alla procura della Repubblica perché teneva i ragazzi in una struttura che doveva essere adeguata e poi archiviata dalla procura, chiusa dagli uffici scolastici regionali perché questo significa chiudere le scuole non a Chiaravalle, significa chiudere le scuole in tutta Italia, significa chiudere la Casa della Salute, significa chiudere la Caserma dei Vigili del Fuoco, significa chiudere l'industriale, il liceo e tante altre strutture che non possono essere adeguate dalle norme sismiche del 2022 perché sono tutte costruzioni antecedenti anche il 1974, antecedenti il 2002, antecedenti a quelle norme sismiche, a quelle leggi che sono nate successivamente a quando queste opere sono state fatte. Allora che vogliamo fare? Vogliamo solo allarmare i cittadini? vogliamo dire ai genitori che da domani le scuole saranno chiuse? Allora facciamo attenzione, parliamo di politica, ma di politica seria, parliamo di fatti, di fatti veri perché se io nel 2018 mi sono assunto una responsabilità seria, l'ho detto quel giorno della riunione, quindi mi sorprendi i tre consiglieri di minoranza, Rauti, Neri e Cardamone che solo parzialmente vengono a sapere di quella riunione perché io ho detto che questo argomento viene portato in consiglio comunale, non perché lo stanno chiedendo loro, perché l'ho già detto io e perché deve essere portato in consiglio comunale, perché si devono assumere anche tutte le responsabilità che fino ad oggi se le ha assunto il sindaco e io andrò avanti fino alla fine perché so di agire nel giusto, so che ho agito nel bene di tutte le famiglie di Chiaravalle, che sto agendo quotidianamente perché è facile attaccare il sindaco, è facile attaccare l'amministrazione anche quando si parla di covid, ma come sta agendo ancora una volta il sindaco di Chiaravalle e ne possono essere testimone le decine, le centinaia di persone che attualmente anche con le misure covid si vedono costretti, chiuse in casa, ad avere uno solo vicino, uno è del sindaco di Chiaravalle che riesce ancora una volta ad entrare nelle famiglie e a stare e dare serenità a queste persone chiuse e abbandonate a se stesse.